Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Vediamo quali sono le notizie in primo piano in questa edizione del telegiornale Urta i cavi dell'alta tensione con una gru, operaio colpito da una scarica elettrica da 20.000 volt E' iniziata la prima fase della campagna antinfluenzale Entro la metà di ottobre i medici e i pediatri potranno iniziare a somministrare i vaccini Fondamentali per individuare i contagi da coronavirus Voragine sulla strada larga un metro E i residenti protestano e nel frattempo ci mettono una toppa con una tavola di legge Donate agli studenti del Bramante di Fermignano 250 borracce Che permetteranno di risparmiare oltre 50.000 bottiglie di plastica Il comune di Fano presenterà il rendering Che mostrerà ai fanesi come cambieranno piazze, parcheggi e piste ciclabili in centro A Vallefoglia ha preso il via la quarta edizione della Fiera di San Michele Arcangelo L'evento proseguirà il prossimo fine settimana con spettacoli e convegni Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questo nuovo appuntamento con informazione Occhio alla notizia sul canale 17 Attimi di paura questa mattina ad Apecchio in provincia di Peso Urbino Dove un operaio della Telecom è stato colpito da una scarica elettrica da 20.000 volte È successo intorno alle 10.30 nella frazione di Serravale di Carda Dove il giovane sui 30 anni stava manovrando una gru per la posa in opera dei cavi in fibra ottica Quando con il pesante mezzo ha urtato i cavi dell'alta tensione abbattendo un palo L'operaio è stato subito soccorso dai colleghi che lo hanno trasportato all'ospedale di Urbino Ma pare che le sue condizioni di salute siano buone Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cagli Che hanno messo in sicurezza la gru per il ripristino del palo di velto Con la consegna delle prime dosi vaccinali Area Vasta 1 è partita ieri con la prima fase della campagna anti-influenzale L'emergenza coronavirus ha reso indispensabile rafforzare le campagne di vaccinazione Per ridurre le infezioni respiratorie nella popolazione e rendere più facile la diagnosi differenziale Cioè capire in modo tempestivo se i sintomi siano riconducibili all'influenza o al covid-19 Entro la metà di ottobre la campagna partirà anche nell'area Vasta 1 Ieri ai pediatri e ai medici di medicina generale sono state consegnate quasi 39.000 dosi Sulle oltre 94.000 previste A seguire questo percorso è il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur Diretto dal dirigente medico Augusto Liverani Le assistenti sanitarie del Dipartimento di Prevenzione Stanno collaborando attivamente con i servizi farmaceutici territoriali Per distribuire i vaccini ai medici di medicina generale Le categorie considerate a rischio da circolare ministeriale sono gli oltre 65 anni I soggetti a partire dai 6 mesi di età che hanno delle patologie Gli operatori sanitari, le donne in gravidanza I lavoratori addetti ai servizi di pubblico interesse E quelli a contatto con gli animali Quest'anno però la normativa sia nazionale che regionale ha individuato altre due categorie I bambini dai 6 mesi ai 6 anni e gli adulti dai 60 ai 64 anni Anche senza fattori di rischio Ciò serve per estendere appunto l'offerta della vaccinazione Limitare la circolazione virale Laddove i bambini sono spesso una sorgente di infezione importante Chi dovrà definire le priorità di somministrazione? Sono i medici di medicina generale ovviamente che hanno in carico i pazienti A stabilire un ordine di priorità nell'erogazione dei vaccini Ovviamente avranno la priorità i soggetti che hanno delle condizioni patologiche di rischio più importanti Oggi sul tema si è svolto un incontro con la regione proprio per definire alcuni aspetti Dell'imminente campagna vaccinale anti-influenzale Dovrà essere individuata una data precisa per tutta la regione Noi presumiamo intorno al 12 ottobre Un altro aspetto rilevante è che i medici di medicina generale Non registreranno più le vaccinazioni su carta Ma saranno forniti di un supporto informatico Appunto per registrare le vaccinazioni E avere un report immediato ed efficace della pratica vaccinale effettuata Per l'erogazione si tiene ancora conto dei drive point Definiti in questo caso centri vaccinali aggiuntivi? Noi lo consideriamo, noi dell'area vasta 1, come un'alternativa Nei casi in cui possiamo andare in difficoltà nell'erogazione dei vaccini È ovvio che dovremo presentare un progetto all'Asur Un progetto dettagliato che definisca tutti i requisiti di sicurezza di questa modalità E l'area vasta 1 continua ad essere impegnata anche nei drive point della provincia di Tesoro Urbino Questa mattina al Codma di Rosciano Si sono formate lunghe code nell'area di Sosta e in via Tommaso Campanella In attesa del test nasofaringeo Gli esiti di questi esami si avranno nei prossimi giorni Intanto dopo i 5 casi rilevati ieri nelle Marche Nell'ultima giornata sono stati registrati altri 26 positivi al coronavirus 13 in provincia di Ascoli, Piceno 7 in quella di Ancona e 6 nel Maceratese Nessuno quindi in provincia di Pesaro e Urbino Questi casi comprendono un rientro dall'Egitto 12 soggetti sintomatici e contatti sia in ambito domestico che con persone contagiate I ricoveri restano 29 ma calano da 4 a 3 i degenti in terapia intensiva Che si trovano a Marche Nord, ad Ancona e nell'ospedale di San Benedetto del Tronto Cambiamo argomento, una voragine di un metro È stata segnalata alla nostra redazione da alcuni residenti in località Cannelle Sopra il centro abitato di Carrara di Fano I residenti chiedono appunto interventi prima che il tratto stradale ceda completamente Filippo Pucci Non è la prima volta che i residenti della strada comunale Cerreto 2 in località Cannelle Sopra l'abitato di Carrara di Fano contattano la nostra redazione per denunciare lo stato di abbandono Del manto stradale A giugno dello scorso anno alcuni di loro ci avevano mostrato come questo tratto in estate Ad ogni passaggio di veicoli si crea una grande quantità di polvere Mentre in inverno, soprattutto con le frequenti piogge, si formano diverse buche Creando così disagi per chi è in auto oppure in motorino E sono proprio le buche tutt'oggi a preoccupare chi abita in questa zona Da alcune settimane infatti si sono create diverse crepe profonde E anche una vera e propria voragine Lunga quasi un metro e altrettanto profonda Questa qui è la solita strada comunale Già da tempo dietro che si diceva sempre di mettere a posto questa strada E non si fa vedere mai nessuno Qui è l'unica strada che paghiamo le tasse ma non si vede nessuno per ripararla E' questo qui insomma Qui il problema è questo Oggi per oggi c'è le crepe che ci dà la strada Io non dico molto però una volta all'anno Metterci un po' di ghiaia da fare una manutenzione Cioè è una strada che una volta all'anno bisogna fare la manutenzione Invece qui non si vede mai nessuno Arriva l'organico, i camion, bodubon, bodubon, bodubon nelle buche Arriva il pulmino, bodubon, bodubon nelle buche E cioè tutta acqua Vengono su con un po' di stabilizzato Non scola l'acqua da nessuna parte Dopo 15 giorni forma le buche E siamo sempre da fare in fondo Nel frattempo le nuove famiglie che abitano in questo tratto Hanno chiuso la profonda buca con una tavola in legno Per poter far passare i mezzi Compresi i pulmini per la scuola In sicurezza, senza rimanere incastrati Ma al tempo stesso chiedono interventi veloci Da parte del comune di Fano Prima che frani tutta la strada Sono tre anni che non vengono più a riparare Che non fanno più niente Mettono sì una palla di breccia su una buca E poi a posto Invece qui non bisogna solo una palla Bisogna fare i fossi Bisogna pulire le fogne Bisogna dare la messa a posto Gli l'ho anche detto Io invece arriva l'ingegnere Arriva, è venuto su Una volta, l'ho visto così per caso Un gran spolverone Tutto sparato Una gran polvere E non si è nemmeno fermato Niente Perché io gli avevo già segnalato Che c'erano C'erano sti cripe Da tanto tempo che segnaliamo Se ne negavamo però Vengono, guardano A sta la vista Non si vede più nessuno La cosa è semplice Visto che noi confiniamo Col comune di Cartoceto Se il comune di Fano Non vuole occuparsi di noi Non c'è nessun problema Ci mettiamo noi insieme E poi andiamo col comune di Cartoceto Ci spostiamo Non ci vogliono Ci spostiamo Oggi all'istituto comprensivo Bramante di Fermignano Un'azienda locale Ha donato 250 borracce Che permetteranno di risparmiare 50.000 bottigliette di plastica Letizia Marchionni Dovevano essere regalate ai ragazzi a marzo Ma a causa Covid E chiusura delle scuole La consegna delle 250 borracce Agli alunni dell'istituto comprensivo Donato Bramante di Fermignano È stata rimandata ad oggi Un'idea di Ivan Calandra Che coinvolgendo l'azienda per cui lavora La Midor Ha proposto il progetto al comune Che ha accettato senza esitazione L'idea della borraccia soprattutto Nasce l'anno scorso Circa verso metà settembre Fine settembre Perché era molto in voga L'abbattimento della plastica La riduzione della plastica Tutti ne parlavano Noi come azienda Che 38 anni operiamo a Fermignano Siamo vicini al territorio Volevamo dare un segnale Un qualcosa al nostro territorio Allora ci è venuto in mente Di regalare la borraccia In alluminio Nickel free Con vernice attossica Quindi sicurissima per i ragazzi Ai ragazzi delle scuole Abbiamo incontrato il sindaco Del comune di Fermignano Che ha appoggiato pienamente l'idea Di fatto partecipando anche lui Come comune Al 50% della spesa E abbiamo deciso insieme Di regalarla agli alunni Delle scuole medie Sono stati ideati i prodotti Per pulire le borracce? Abbiamo creato un prodotto Appositamente per pulire la borraccia Quindi per togliere Diciamo i residui Sia di calcare Di piccole alghe Che si possono formare Quando l'acqua è stagnante Che rimane dentro la borraccia Il prodotto È creato appositamente Con sostanze Eco sostenibili Eco compatibili Innanzitutto Fermignano È uno dei comuni Piuriciclone delle Marche È stato premiato nel 2018 Come comune piuriciclone Quindi che ha raccolto Piur raccolta differenziata All'interno di tutta la regione Marche Nello spazio tra i 5.000 e i 15.000 abitanti Proprio su quest'ottica Insieme a Midor Un'azienda del nostro territorio Si è deciso di fare Un piccolo opera di sensibilizzazione Attraverso il regalo Un omaggio a tutti i ragazzi Delle scuole medie Quindi secondarie di primo grado Regolandogli una piccola bottiglietta In plastic free Quindi che dava Un oggetto di sensibilizzazione Ma che permetterà Nel lungo periodo Nell'arco di un anno Di risparmiare Circa 50.000 bottigliette di plastica E appunto Questo è un piccolo segnale Di sensibilizzazione Che abbiamo deciso Di lanciare Ma è una piccola opera Perché ne abbiamo in cantiere Tante altre Appunto sul risparmio energetico All'interno della nostra città Un'iniziativa Che fa parte Di un progetto Di sensibilizzazione Più ampio Che vedrà All'interno Della struttura scolastica Riqualificata Ed inaugurata Lo scorso 2 luglio L'installazione Di un'apposita fontanella D'acqua depurata Per permettere ai ragazzi Di riempire La propria borraccia Devo dire che il comune Si attiva sempre Quando la scuola Promuove qualcosa Quindi Fa suo Il progetto L'iniziativa Della scuola E' importante questo Perché La scuola Promuove il territorio Ma promuove anche Tutti gli aspetti culturali Che interagiscono All'interno del territorio Ieri A Palazzo Chigi Il presidente del consiglio Giuseppe Conte Ha ricevuto Dalla SVIM La società di sviluppo Della regione Marche La moneta celebrativa Del cinquecentesimo Anniversario Della morte Di Raffaello Sanzio Insieme alla stampa D'arte Realizzata da Carla Luminati E Giulio Serafini Raccolgo con piacere L'invito Dell'amministratore Unico Gianluca Carrabs Ha dichiarato Il premier Conte A breve Verrò personalmente A visitare La città natale Di Raffaello Tra qualche mese Fa sapere il presidente Sarò nuovamente Nelle Marche Per fare un sopralluogo Delle aree terremotate In quell'occasione Coglierò l'opportunità Di visitare anche Urbino Il Palazzo Ducale E la casa natale Di Raffaello Come cambieranno I parcheggi E le piazze Più importanti Del centro storico Di Fano A questa domanda Risponderà Un rendering Con le ultimissime Novità Fano è pronta A trasformarsi In una destinazione Turistica A 360 gradi Avrà un nuovo look E una nuova identità L'amministrazione comunale Presenterà Un rendering Del centro storico Per mostrare Come cambierà Dai parcheggi Alle piazze Alle piste ciclabili È quasi pronto Il progetto definitivo Del Sant'Arcangelo Verrà riqualificata Alla zona D'Arsena Borghese Verso il porto E si continua A lavorare Sul teatro romano Il sindaco Massimo Seri E l'assessore al turismo Etienne Lucarelli Hanno presentato Le nuove strategie Per rilanciare E promuovere il territorio Partendo dal city brand Fano dovrà caratterizzarsi Sfruttando le sue bellezze I prodotti tipici locali E i rapporti internazionali Diciamoci la verità In un contesto Come il nostro paese Di luoghi straordinari Se non ci facciamo riconoscere Nessuno ci scopre Quando ci scoprono Si innamorano Quindi significa Che abbiamo un potenziale Veramente Da sfruttare Quindi l'obiettivo Va in questo senso Quindi la valorizzazione vera Con l'elaborazione Di prodotti turistici Ecco La vera differenza Poi misureremo Anche su questo I risultati Occorreranno Un paio d'anni Per andare A pieno regime Ma lasciatemi dire Per la prima volta C'è un percorso Che è un progetto Concreto È un lavoro È un lavoro che vogliamo Condividere con tutti Ha aggiunto Lucarelli Per questo Da metà ottobre Si svolgeranno In più tappe Gli stati generali Del turismo Sabato 10 Al teatro della fortuna Un incontro plenario Dove saranno invitati Insomma Il mondo del ricettivo Il mondo degli eventi E della cultura I sindaci del territorio Perché Giuseppe Iarc Maggioli Cultura Insomma Ci apriranno la mente Su quelle che sono Le nuove frontiere Del turismo Anche dopo Insomma L'epoca che stiamo Attraversando E ci saranno Anche altri ospiti Altre interventi Insomma Che ci faranno Aprire la mente Su questo settore Poi 14 e il 15 Insomma Ci divideremo In tre laboratori Un laboratorio Col mondo del ricettivo Un laboratorio Col mondo culturale Degli eventi E un laboratorio Con i sindaci del territorio Perché questa volta Vogliamo ascoltare Le impressioni Degli operatori E degli stakeholder E alla fine Insomma Un momento sociale Sabato 17 Faremo una visita Della città Perché crediamo Sia importante Raccontarla bene Ma crediamo Sia importante Anche socializzare Bene tra di noi L'obiettivo finale È creare un piano Identitario Della nostra città Per far sì Che tutti insieme Possiamo trasferire Un'immagine univoca Bella Interessante E che possa attirare Turismo nella nostra città Fanno si candida Capitale italiana Del libro 2021 L'amministrazione Si legge in una nota Deciso di tentare L'impresa Che risulta di fatto Quasi naturale In considerazione Delle esperienze Maturate dalla città In materia di promozione Del libro E della lettura Infatti Dal 2017 Fanno è nell'elenco Nazionale Della città che legge Le risorse che il ministero Mette a disposizione Tramite i bandi Sono un'occasione Da non perdere Ha commentato L'assessore Samuele Mascherin Che ieri Alla Memo Ha incontrato I rappresentanti Del tavolo Fanno città che legge Con i quali Sono state condivise Le linee guida E la struttura Del dossier Che dovrà essere presentato Entro il prossimo 16 ottobre E adesso Andiamo a Vallefoglia Dove Ha preso il via La quarta edizione Della fiera Di San Michele Arcangelo L'evento proseguirà Anche nel prossimo Fine settimana Con spettacoli E convegni L'inno nazionale Eseguito dalla banda musicale Giovanni Santi Di Colbordolo Ha accompagnato Il taglio del nastro Della quarta fiera Di San Michele Arcangelo A Talacchio Nel comune di Vallefoglia L'evento Inaugurato sabato scorso All'obiettivo Di mettere in vetrina Le eccellenze locali E promuovere Le aziende agricole E industriali Della Vallata del Foglia Da Pesaro A Belforte All'Isauro E' un tentativo Di dare una mano Al mondo Delle imprese Dell'agricoltura E' il modo Di valorizzare In questi quattro giorni Anche con alcune riflessioni La riflessione Sul melograno La riflessione Sulla cantina sociale Di Morciola Come farla diventare Un punto di riferimento Per la ricerca scientifica Di cosa produrre in agricoltura Di come aumentare il reddito In agricoltura Soprattutto alle giovani generazioni Che scelgono di stare in campagna Di come rilanciare l'economia Dopo Covid La fiera proseguirà Nel prossimo fine settimana Con spettacoli Convegni E iniziative collaterali Due saranno gli incontri In programma Il primo E' intitolato Differenziazione economica Strategia per la ripresa Mentre il secondo E' dedicato All'agricoltura E alla sostenibilità ambientale Nella lotta Verso gli insetti alieni Sabato 3 ottobre Prevista anche Una serata teatrale Con la compagnia dialettale Dei Senza Prescia Di Mondaino Mentre domenica Spazio E più piccoli Grazie a un'esibizione Del club magico Marchigiano Per terminare Con Bicio Il barzellettiere E una degustazione Dei vini del territorio Un'iniziativa Ricca di eventi Naturalmente In primo piano L'enogastronomia Quindi La degustazione Di prodotti Del nostro territorio Il coinvolgimento Di bambini Di teatro Il coinvolgimento Di attività ludiche Per ragazzi Il barzellettiere Bicio Quindi Vi invitiamo A partecipare A questa fiera Dove potreste Trascorrere un buon pomeriggio All'insegna Dei prodotti locali E del divertimento Con le vostre famiglie Il servizio Era di Simona Zonghetti Con i numeri attuali Non stiamo Rischiando Una chiusura Completa Un lockdown Come in marzo I numeri Stanno crescendo Molto lentamente E la situazione È sotto controllo Noi abbiamo Un vantaggio Rispetto agli altri paesi Abbiamo avuto Un lockdown più lungo E abbiamo spento Eventuali focolai Secondari Poi abbiamo iniziato A utilizzare la mascherina Prima degli altri Basti pensare Alla Gran Bretagna Dove stanno Cominciando ad usarla Obbligatoriamente Soltanto adesso Lo ha detto Il vice ministro Della salute Pierpaolo Sileri In una trasmissione Televisiva Poco fa E andiamo avanti Con il giornale Sabato prossimo Alle ore 18 Nella chiesa Del suffragio a Fano Si terrà Un incontro Dedicato alla storia Del porto di Fano Nei suoi primi Due secoli di vita La conferenza È tratta dal libro Scritto da William Ciavaglia Del circolo culturale Castellani E pubblicato Lo scorso anno In occasione Del quattrocentesimo Anniversario Dell'inaugurazione Del porto Avvenuta Nell'ottobre Del 1619 L'ingresso Sarà libero Con l'obbligo Di mascherina E misurazione Sul posto Della temperatura Corporea Inoltre I posti a sedere Saranno distanziati E limitati E con questo Chiudiamo qui Il nostro telegiornale Dopo la pubblicità E le previsioni del tempo Uno speciale Che abbiamo registrato A Vallefoglia Sulla fiera Di San Michele Arcangelo Di cui vi abbiamo parlato In sintesi Nel servizio Di poco fa L'informazione Torna in diretta Domani mattina alle 7 Con la rassegna stampa A che giornali Arrivederci Ricordati Autore dei sottotitoli Grazie a tutti.